25 anni di banca etica, 25 anni di lavoro in favore della pace, della coesione, della giustizia sociale, dell'ambiente, 25 anni dei risultati. Assolutamente sì, 25 anni che attraversano l'Italia e la Spagna per promuovere il diritto alla casa, il diritto alla salute, il diritto all'acqua, il diritto all'abitare, il diritto all'inclusione sociale, all'essere fragili ma non essere mai esclusi, il diritto all'ambiente. Tutti i luoghi di impegno per banca etica e per tutti i compagni di viaggio di banca etica che si traducono anche nel fare banca, nell'essere finanza in un modo diverso, alternativo rispetto a quello che le leggi di mercato oggi ci raccontano. 25 anni fa, a marzo 99, lo slogan era abbiamo delle grandi idee, facciamole crescere in questi anni che ci siete riusciti. Continuiamo ad avere tantissime idee, le stiamo facendo crescere, l'importante è che crescano sulle gambe di sempre più persone, organizzazioni, imprese, istituzioni che credono in un modo di fare finanza e fare economia che sia diverso da quello del massimo profitto. Siamo riusciti? Alcuni passi sono stati importanti, significativi, l'essere qui oggi anche a celebrarlo vuol dire che un primo risultato e grande risultato è stato ottenuto ma non ci accontentiamo. In un mondo in cui le disuguaglianze stanno crescendo, l'emergenza climatica grida che è il momento di agire, crediamo che veramente il meglio ma anche l'importante debba avvenire ora e anche nei prossimi 25 anni. Una banca che non investe per esempio in armi, in combustibili fossili, in allevamenti intensivi, è una banca etica che è riconosciuta a livello internazionale per queste scelte importanti e fondamentali. E che queste le scelte le fa insieme a tante altre banche che come noi a livello internazionale hanno fatto le medesime scelte, sugli stessi criteri e con gli stessi valori. Quindi non siamo neanche soli, in questo momento il nostro percorso come finanza etica in Italia è come unica banca di finanza etica ma ripeto in Europa e in tutto il mondo ce ne sono altre. Questo perché è importante affermarlo, perché il denaro è un denaro che non appartiene ad un luogo ma attraversa contesti, settori e paesi. Ed essere presenti a livello internazionale con la capacità di fare lobby, di cambiare le regole e di intercettare anche le tante istituzioni e organizzazioni che possono essere compagni di viaggio sarà veramente la sfida del futuro. Per tanti che non conoscono banca etica questo nome sembra uno simoro, nel senso che complimenti alla sfida vinta di riuscire a creare uno strumento necessario, in questo caso specie per noi cooperative sociali, uno strumento necessario che è quello finanziario, che però si collega al fatto che il profilo di banca etica è realmente un profilo etico e soprattutto questo legame col territorio, con la cooperazione sociale e con la cultura che permette ai soggetti di terzo settore di avviare delle attività. Per noi stessi come cooperative Alcesto l'inizio dell'accoglienza, che per noi è un aspetto importante di lavoro, è stato garantito grazie all'intervento di banca etica che investe sui soggetti che lavorano proprio all'interno di questo orizzonte, per cui siamo tutti qua per festeggiare Viva Banca Etica. Che cosa vuol dire per banca etica aver portato in 25 anni avanti tanti progetti legati per esempio al sociale e non solo? Beh, è una grandissima soddisfazione innanzitutto perché costruire comunità, comunità che raccolgono persone e organizzazioni, vuol dire costruire un futuro migliore. Questa è un po' la scelta che abbiamo fatto tanti anni fa e che oggi troviamo anche in questo bellissimo posto come senso della nostra missione originaria. Festa quest'oggi a Genova, a giugno a Roma, per celebrare un quarto di secolo di progetti appunto legati anche alla pace e ce n'è davvero bisogno in questo momento? Beh, noi nasciamo come organizzazione non violenta e questo ci proietta nei prossimi 25 anni. 25 anni e con gli scenari attuali saranno anni complessi. Però è proprio questa la nostra scelta di essere anche proiettati verso il futuro per poter contaminare il mondo della finanza perché questa incide e incide in maniera purtroppo oggi molto negativa. Ricordo le parole di Don Gallo quando incontrò i lavoratori, uno degli ultimi incontri che fece nel 2012, diciamo ammonendo con parole profetiche che l'unico antidoto alla speculazione era la democrazia. E ci ha aiutato a fare operazioni molto importanti come quella della casa di quartiere di Alessandra, una rigenerazione urbana di un grandissimo stabile su cui bisognava proprio essere visionari e sognatori per sostenere l'impegno economico di lungo periodo per rigenerare quello che poi oggi è uno spazio, un bene comune, Alessandra è molto importante, fino all'accompagnamento io direi anche delle persone singole. Un progetto che sta cercando di, sta tenendo delle sponde più che altro a livello internazionale con esempi di altre banche che seguono lo stesso esempio di Banca Etica, purtroppo in Italia è una cosa che ancora non ha preso piede. Ma sai, intanto c'è Banca Etica e ce la teniamo e quindi sosteniamo lei, poi speriamo che nascono altri progetti, io so che ci sono altri progetti di microfinanziamento, finanziamenti locali, a piccole realtà, MAC, ora non vorrei dire belinate giusto per parlare in genovese, però ecco, ora c'è Banca Etica, intanto la sosteniamo, diventiamo soci e poi se nasceranno altri progetti simili ben venga, meno male. Grandi obiettivi anche traguardi raggiunti anche dal punto di vista della scommessa anche sulla cultura e anche sul nostro territorio. Assolutamente sì, devo dire che c'è stata poi sempre piena sintonia, tra l'altro casualmente anche noi siamo nati nel 1999, mi viene da dire che le cose migliori nascono nel 1999, ma vorrei anche fare dei confronti che non sono inopportuni perché loro sono una realtà grandissima, ma le finalità sono molto simili alle nostre e grande ammirazione perché lavorare in un ambiente come quello della finanza è comunque difficile, complicato, tenendo sempre la barra dritta sugli obiettivi, sull'eticità, su tutto quello che significa anche la sensibilità e l'empatia nel confronto del mondo che ti sta intorno, dai veramente auguri Banca Etica e continua così.